Prove tecniche per ricompattare il centrodestra che per molto tempo è stato, bisogna dirlo, polverizzato. Adesso voi provenite da esperienze politiche diverse, ma pur sempre un'esperienza politica a ciascuno di voi è abbastanza lunga. Come pensate di riorganizzarvi? Allora, noi stiamo cercando di riorganizzare bene le nostre forze perché siamo convinti che tutti assieme e uniti possiamo farcela. Abbiamo iniziato questo progetto di aggregazione tempo fa alle scorse amministrative, purtroppo non ci siamo riusciti. Infatti noi come gruppo avevamo proposto le primarie perché così insieme potevamo vingerle. Ahimè, non ce l'abbiamo fatta. Stiamo ritentando lo stesso esperimento, cercando di partire da un gruppo di persone che non abbiamo nessun interesse verso la politica, se non che quello di dare ai nostri figli un paese migliore, di cercare di lasciare ai nostri figli un paese migliore. E così stiamo cercando di riorganizzare questo centrodestra che fino ad oggi è stato polverizzato. La disgregazione è stata forse la maggiore pecca del centrodestra che non è mai riuscito in realtà alle competizioni elettorali a presentarsi compatto e quindi così forte da poter ottenere dei risultati importanti. Che cosa non è stato fatto che si poteva fare e che cosa pensate di fare adesso? Ma oggi io credo che serva una politica, un programma ed una politica alternativa al centro-sinistra e ai 5 Stelle che possa dare un risultato. Oggi bisogna avvicinare la gente alla politica perché c'è chi vota contro qualcosa e non per qualcosa. Quindi serve un programma condiviso, delle persone nuove, gente onesta, gente corretta. E chiaramente dobbiamo essere tutti noi della nostra città a fare un'alleanza tra di noi. Quindi l'alleanza va fatta con i cittadini. Non devono venire persone da fuori che all'ultimo momento decidono chi deve fare il sindaco e fare le liste. Quindi questo è fondamentale. Abbiamo tutti fondamentalmente nel cuore il bene e la condivisione dei valori che abbiamo. Dobbiamo portare avanti questi valori ma nello stesso tempo cercare di stare vicini ai bisogni delle persone. Perché oggi non dimentichiamoci che si sta andando all'abbandono totale del territorio. Ognuno sta facendo solo ed esclusivamente i propri interessi. E per cui con questo intento stiamo cercando di unire tutto il centro-destra, nessuno escluso. Cosa vi ha deluso delle esperienze politiche precedenti? La divisione, il fatto che oggi noi ci stiamo impegnando per essere uniti nel passato, sia quando io ero capogruppo di Forza Italia che del PDL in due consigliature diverse, non c'è stata nessuna unione. Anzi c'era chi ha lavorato per dividere. Questo è stato uno dei motivi che mi hanno portato a lasciare allora il PDL a dichiararmi indipendente.